Ovviamente è un po' meno bello qua il campo, però... Qua è la cosa salvabile qua. Sì, sì. Il petto santo è sempre in posizione... No, no, l'ho tolta stamattina. Ho messo mezz'ora, eh. A togliere la pellicola. Eh, adesso faccio un po' di storie. Sì, sì, sì. Sì, palletata. Quanto abbalzo, quanto abbalzo, palletata. Due, due. La cambiamo. Intanto prese le abbiamo fatte. Te la scarico, te la gestisce lui. Te la metto bassa, mi raccolta senza andare a giù. Siamo. Un po' più distante. No, te la metto già... Anzi no, te la metto con le mani in avanzamento. Dopo te la do invece più forte. Ok. Questa... Ok, buona. Allora, magari giochi sempre lì. Adesso ti gioco con una presa, ti giri e indietro, parla in mano morbida, calcio di precisione a lui. Sì. 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 Molta ragazzi. Male, male. Male, male. Male, non voglio telecamere, basta. Sì. C'è l'ultima. Vediamo. No, questa, sì. Ehi! Ti aspetta in posizione e te la metto comoda in tutto. L'ultima 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 L'ultima